Si è conclusa con un lieto fine la ricerca dell'anziano di Santa Caterina di 88 anni che non aveva fatto ritorno a casa dopo essere uscito per seguire la festa del paese. L'uomo è infatti stato ritrovato nelle campagne intorno a Santa Caterina, incontrata a Materazzo. A mettersi alla ricerca dell'anziano pensionato erano stati i carabinieri, allertati dalla famiglia dell'uomo. Ad individuarlo sono stati i componenti della guardia forestale, grazie a un drone con cui è stato possibile monitorare un'ampia area delle campagne intorno a Santa Caterina. L'uomo è restato confusionale senza scarpe, con i vestiti bagnati, perché probabilmente era caduto in un piccolo corso d'acqua. Grande la gioia di familiari e amici alla notizia del ritrovamento del loro caro. Lo stesso sindaco di Santa Caterina, Giuseppe Ippolito, ha dato conferma del felice esito della vicenda sui social network.